Partiamo con una settimana di ritardo, nel senso che la settimana scorsa è stata soppressa l'iniziativa per gelo. Quindi partiamo con una settimana di ritardo, io non ci sarei stato così posso assistere a tutta l'iniziativa e vedere il ciclo, che è il ciclo storico consueto che facciamo tutti gli anni nel mese di marzo e il bravo Goni quest'anno ci parlerà della vittoria, il titolo è Da caporetto alla vittoria e ci racconterà un pezzo della nostra storia della quale ricorre un anniversario, 1918-2018. Quindi sono cento anni dalla vittoria e ce lo racconta il buon Goni, vedo che sono ripreso, faccio un sorriso. Buon ascolto, passo la parola a Goni, anzi passo la parola alla Carla che è la nostra speaker. Il ciclo si svolge settimanalmente, quindi da oggi, che è venerdì, scusate non ricordo il giorno, il 9 al venerdì successivo e al venerdì ancora successivo. Quindi i tre incontri sono conseguenziali, tutte le settim- Vedi, sono stato assente, scusatemi, allora, Carla ripetimi, questo venerdì, 9, ripetimi le date, sono stato assente e malato, scusatemi, 9, 16 e 30, quindi ci vediamo durante questi incontri. Scusate della GAF, ma sono stato assente, malato e quindi buon ascolto, passo la parola a Goni. C'è una mostra, la biblioteca, mi ricordano di dire, Max Neri è qui presente, mi minaccia se non lo faccio, che la biblioteca ha curato un allestimento di una piccola mostra con testi dedicati alla Grande Guerra. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui, vedo molto numerosi, la sala è quasi colma. La settimana scorsa a causa neve è stato deciso, anche perché le scuole erano chiuse, è stato deciso di rinviare l'incontro, quindi incominciamo oggi col primo incontro di questo ciclo di tre conferenze dedicato al centenario che noi stiamo vivendo quest'anno, cioè tra la fine del 17 e il 18, cioè il centenario della fine della Grande Guerra, l'ultimo anno di guerra, quello più tragico e anche quello più significativo per noi italiani, avendo subito la celeberrima sconfitta di Caporetto, dalla quale però siamo riusciti a uscire e a concludere, vittoriosamente, un conflitto devastante. Quindi l'incontro di oggi è dedicato, facciamo un super riassunto praticamente, di quei tre anni di guerra, perché noi parleremo del periodo antecedente, Caporetto ci fermiamo con un po' di suspense, spero, proprio sullo spartiacque del 24 ottobre 17, cioè data dell'inizio della battaglia di Caporetto. E in questo incontro di oggi faremo proprio una rapidissima carrellata di tutto quello che è successo prima, quindi dallo scopo della guerra, le caratteristiche anche dell'esercito italiano e tutto quello che è avvenuto fino al fatidico ottobre del 1917. Questo ciclo di incontri l'ho cercato, poi mi direte voi se apprezzate questa mia idea, di non parlare solo io, ma di far parlare i documenti. Quindi cercherò di farvi vedere i documenti importanti, non sempre possibile ovviamente, ma dove possibile, i documenti che sono stati poi alla base di tutte le vicende storiche o anche i dibattiti, le discussioni, le polemiche relative a questi avvenimenti. Iniziamo adesso velocemente per ricordare qualcosa che era avvenuto prima. 1882, l'Italia entra nella triplice alleanza, c'è l'Italia, in questo momento, lo Stato, il Regno d'Italia, nato, abbiamo fatto il 150esimo, avevo ricordato pochi anni fa, il 1861, però l'Italia come nazione non sa bene da che parte schierarsi nella grande disputa e contraposizione tra le varie potenze europee e curiosamente Sial entra in un'alleanza militare con l'ex Prussia, Germania, l'impero tedesco e con l'Austria. L'alleanza con l'Austria un po' sorprende perché l'Austria è sempre stata il principale nemico del risorgimento italiano. Come mai il neo Stato italiano decide di fare questa alleanza? Qua vedete una caricatura sull'alleanza, a sinistra vedete Crispi al centro Bismarck, a sinistra un manifesto propagandistico che dice che l'unità fa la forza. Che cos'è che ha spinto l'Italia ad allearsi con il nemico naturale? Perché in questi anni l'Italia sta cercando di conquistare una sponda nel Mediterraneo, ha addocchiato la Tunisia e la Francia, con un modo malumilitare e in maniera molto sgarbata, i cugini francesi ci soffiano come territorio coloniale la Tunisia, allargando il loro possedimento che già avevano in Algeria. Questo gesto anche in Tunisia, non solo la Tunisia è vicinissima alle coste siciliane, ma c'erano anche comunità italiane residenti, quindi c'era un legame per giustificare una presenza italiana in Tunisia. Questo sgarbo francese fa sì che l'Italia si riposizioni in un'ottica antifrancese e quindi unendosi all'alleanza austro-pruzziana, austro-tedesca. L'esercito italiano nasce con il Regno d'Italia, ovviamente è un allargamento del precedente esercito piemontese e il neonato stato italiano si ritrova anche qui a fare una scelta, non solo una scelta di politica estera, che abbiamo visto triplice alleanza, ma anche una scelta su come deve essere il nuovo esercito nazionale. C'è un dibattito, dice facciamo un esercito di professionisti, quindi solo volontari, come erano gli eserciti inglesi, oppure un esercito di leva, come era quello tedesco, prussiano prima e tedesco poi. C'è un ampio dibattito e alla fine si decide di optare per un esercito di leva perché garantisce un numero maggiore di soldati e c'è una figura molto importante che è il ministro della guerra Cesare Ricotti che ricoprirà la carica di ministro della guerra per un lungo periodo alla fine dell'Ottocento, come potete vedere, che riorganizza l'esercito italiano con un ordinamento che prende il suo nome, l'ordinamento Ricotti del 1873. Un esercito permanente su dieci corpi d'armata, più una milizia mobile di richiamati, più la milizia territoriale che è formata dai riservisti. Vengono creati i distretti militari, perché ovviamente la leva ha tutto bisogno di un'organizzazione, viene istituita la figura del capo di stato maggiore dell'esercito, la leva ha una ferma di tre anni, che dal 1910 scende a due, vengono abolite anche delle norme più antiche che erano la francazione e le surrogazioni a pagamento, cioè chi aveva soldi poteva o pagarsi legalmente l'esenzione della leva oppure pagare un altro finché facesse la leva al posto suo. Questa è la surrogazione. Cioè io pago, c'è proprio un accordo e lo Stato accettava questa cosa, dice tu ti hanno chiamato alle armi, non ci vai però mi mandi questo, di solito ovviamente uno meno abbiente che lo faceva per sbarcare il Lunario, che si sostituiva al ricco richiamato. Viene istituta con un servizio volontario di un anno per diventare ufficiale di complemento, che sarà un escamotage di molti benestanti per fare una leva breve con una posizione diciamo già di un grado superiore, vengono adottate le stellette, simbolo tuttora che contraddistingue le forze armate, i corpi armati dello Stato italiano, e anche le scarpe anatomiche, voi direte, caspita, fatte su misura. No, semplicemente la scarpa anatomica è una scarpa che è diversa, distingue la destra dalla sinistra. Perché prima le scarpe erano tutte uguali. Infine, la cosa più importante, si decide che questo esercito non sarà, abbiamo detto, un esercito non professionale ma di leva, ma non su base territoriale, ma su base nazionale. Cioè, non vengono reclutati soldati di un territorio che appartengono a, sono assegnati a un'unità che sta sul territorio e magari porta anche il nome della città, ma al contrario. Faccio l'esempio. La brigata Bologna, penso la brigata Bologna, stava a Bologna, è fatta da bolognesi. Assolutamente no. Chiunque di voi abbia fatto servizio di leva lo sa perché è una caratteristica che è rimasta da allora fino all'abolizione della leva. Cioè, l'esercito di leva italiano è sempre stato un esercito non territoriale. Quindi, la brigata Bologna, che prende il nome della città di Bologna, vedete, era a distanza a Napoli, formata dal 39esimo e 40esimo fanteria, a distanza a Napoli, ed era formata da reclute che provenivano da Alessandria, Ancona, Benevento, Cremona, Cuneo, Firenze, Girgenti, cioè al Grigento, questo è un documento dell'epoca, Milano, Perugia, Sacile e Sassari. Quindi, l'esercito nazionale italiano, il reggio esercito, era assolutamente mischiato e anche i reparti che portavano nomi, cioè tutti i reparti, almeno dall'alfanteria dell'esercito italiano, come tuttora, portano nomi di città o località, però non erano minimamente legati al territorio, del nome della città di cui portavano il nome, quindi la Brigata Bologna stava a Napoli e non era formata né da napoletani né da bolognesi. Mi chiederete, cosa c'era Bologna? A Bologna c'era la Brigata Pistoia, sì, la Brigata Infanteria, ed era formata anche lì da tutta Italia, però c'erano anche dei bolognesi in quella brigata. Comunque, questo per farvi capire che un esercito, la scelta è anche per, cercare di non creare timore, lo Stato era appena sorto, da pochi anni, quindi si temeva che fare, non lo so, delle truppe locali potessero in qualche modo seccedere o magari alimentare delle rivolte su base territoriale. L'unica eccezione a questo reclutamento assolutamente non territoriale sono gli alpini che vengono istituiti nel 1872, che ovviamente sono reclutati tra gli abitanti delle zone montane e portano nomi di località di cui fanno parte, e la brigata Sassari, cioè i soldati reclutati in Sardegna, perché si pensava in un'ottica di guerra contro la Francia, perché noi siamo nella triplice, vi dicevo, che la Sardegna sarebbe facilmente, si sarebbe trovata isolata e quindi spostare truppe sarebbe stato difficile e quindi i sardi avrebbero dovuto difendersi per conto loro e di conseguenza la brigata Sassari nella prima guerra mondiale sarà l'unica unità di fanteria a parte gli alpini esclusivamente con reclutamento territoriale, infatti sono tutti i sardi, gli ufficiali sono sardi, Emilio Lusso ad esempio ricordate, ancora adesso quando sfilano cantano l'inno sardo, la parata del 2 giugno, ed è l'unica eccezione di un esercito che invece vuole essere un'amalgama di tutti i soldati reclutati in tutte le province del regno. Facciamo un ampio salto, 28 giugno 1914, celeberima copertina della domenica del Corriere, attentato di Sarajevo, domini di lungo su tutte le conseguenze diplomatiche, eccetera, come che scoppia la guerra, l'Austria dichiara guerra alla Serbia considerando la responsabile dell'assassinio, la Serbia chiami in aiuto la sua protettrice che è la Russia, in nome del panslavismo, la Russia dichiara guerra all'Austria, la Germania dichiara guerra alla Russia intera dell'Austria, la Francia dichiara guerra alla Germania e alla fine l'Inghilterra dopo che la Germania invada il Belgio neutrale dichiara guerra alla Germania. Quindi è una reazione a catena che porta allo scoppio di un conflitto mondiale. qua vedete il sistema delle alleanze, la triplice alleanza dove l'Italia è ancora formalmente inserita, dall'altra parte c'è la triplice intesa che è l'alleanza che unisce Francia, Gran Bretagna e Impero Russo. l'Italia essendo la triplice un'alleanza prettamente difensiva visto che è stata l'Austria dichiara la guerra non è stata lei ad essere stata aggredita si tira fuori e nel periodo 14-15 in Italia c'è un violentissimo dibattito per decidere cosa fare cioè rimanere neutrali e magari cercare di ottenere dall'Austria delle concessioni territoriali Trieste, Trento semplicemente con un accordo dicendo noi non entriamo in guerra contro di Teto in cambio ci lasci questi territori oppure entrare in alleanza ribaltare l'alleanza si sa che l'Italia inizia sempre le guerre con degli alleati diversi rispetto a quelli con cui le finisce sia nella prima che nella seconda abbiamo fatto così ribaltare l'alleanza e allearsi quindi con Francia Gran Bretagna e Impero Russo e quindi conquistare militarmente quei territori che magari i neutralisti avrebbero preferito magari ottenere senza sparare un colpo ma solo con un accordo diplomatico solo che l'Austria non era molto disponibile a cedere e quindi in Italia c'è questo periodo 1914-1915 mentre il continente era attraversato dalla guerra c'è questo accanito dibattito su che cosa fare qua vedete delle caricature del periodo qua vedete le varie potenze che si come un gioco tira alla funo con il nostro re Vittorio Emanuele in mezzo che sta a guardare oppure questa il pesciolino molto carina dove il pesciolino è l'Italia e vedete ogni pescatore che sono le varie nazioni europee offrono come esca qualcosa quindi l'imperatore Guglielmo il Kaiser quindi l'imperatore Francesco Giuseppe francesi la Marianna i russi e gli inglesi ognuno offre qualcosa quindi dice ti offro la Tunisia ti offro Trento ti offro Trieste ognuno questa è una caricatura che spiega il sottile gioco diplomatico per far sì che l'Italia si schierasse da una parte e dall'altra nel periodo 14-15 altre caricature la danza del desiderio vedete un bersagliere irrettito da questa venente fanciulla che ha scritto Trieste e lui però è legato al palo della neutralità anche questa è inutile offerte è l'Italia dove ognuno vedete il Kaiser l'imperatore Francesco Giuseppe il Tsar il re d'Inghilterra e il presidente francese ognuno offre a questa diciamo bella fanciulla degli omaggi per cominciare a schierarsi dalla propria parte anche qui questo è più propagandistico vedete Trieste con l'Aquila la bicipita imperiale asburgica che dice italiane spezzate queste catene ora o mai più questi sono i protagonisti di quel periodo il precedente capo di stato maggiore dell'esercito Alberto Poglio che morirà poco prima dello scopo della guerra lui era diciamo della fazione filo mantenimento dell'alleanza con l'Austria Re Vittorio Emanuele terzo il generale Cadorna il nuovo capo di stato maggiore dell'esercito e politici Sidney Sonnino ministro degli esteri Antonio Salandra presidente del consiglio al momento dell'entrata in guerra e Giovanni Giolitti Giovanni Giolitti politico di lungo corso qualche giorno fa c'era sul Corriere della Sera un articolo di Fulvio Camerano proprio su Giolitti e le neutralità Giolitti rappresenta in questo momento il partito della neutralità dice non dobbiamo entrare in guerra quello che possiamo ottenere lo otterremo con delle concessioni attraverso la diplomazia ovviamente Giolitti viene individuato come il neutralista alleato della Germania e in Italia è attraversata da forti manifestazioni e scontri tra interventisti e neutralisti questa è una manifestazione di interventisti a Bologna nel 1915 vedete la indipendenza è piazza maggiore si vede dove passavano i tram a sinistra qua d'annunzio che in un teatro a Milano forse alla scala fa un proclama a favore dell'intervento perché l'elite intellettuale è tutto interventista interventista per entrare in guerra contro l'Austria ci teniamo nessuno dice interveniamo a sostegno dell'alleanza con la triplice quindi a fianco di Austria e Germania no contro l'Austria per conquistare per completare il risorgimento e conquistare le terre Trieste che ancora ci mancano ecco qua vedete i documenti che tengo a farvi vedere a sinistra un articolo della stampa che dice più di 300 siamo proprio nel maggio alla vigilia proprio dell'entrata in guerra maggio del 15 più di 300 deputati ha dei discoronali tesi dell'onorevole Giolitti cosa avviene in realtà il governo preceduto da Salandra Cadorna il re stesso e i circoli interventisti stanno trattando con le potenze dell'intesa per entrare in guerra di fronte a un parlamento che invece è riluttante entrare in guerra Giolitti è rappresentante della fazione neutralista quindi in questo articolo della stampa dice 300 deputati si schierano a sostegno del neutralismo giolittiano dall'altra parte vedete questo è un libello un giornale interventista futurista diretto da Giovanni Papini e qua vedete anche Ardengo Soffici siamo proprio nella data è proprio 15 maggio del 15 ultimo appello italiani noi giovani libere che fin dai primi di agosto dell'anno scorso dallo scopio della guerra abbiamo proclamato in mezzo a paure incertezze della necessità della guerra guerra nazionale guerra di civiltà guerra contro l'Austria guerra contro la Germania ora che una manovra infame ispirata dagli interessi tedeschi guidata dal dal più noto dalla più noto e potente canaglia di Montecitorio ovviamente è Giolitti per loro cioè è quello che secondo loro complotta i tedeschi perché non vuol fare entrare l'Italia in guerra e quindi questo è un proclama forte contro Giolitti e contro il suo neutralismo nel frattempo cos'è avvenuto però all'insaputa anche del Parlamento il ministro degli esteri il presidente del consiglio e i fattici militari hanno sottoscritto un patto che è il famoso patto di Londra del 26 aprile 1915 in cui è firmato dall'ambasciatore italiani insieme a quello francese quello russo e quello inglese in cui l'Italia si impegna con delle condizioni che vengono indicate nel patto a entrare in guerra a fianco dell'intesa contro l'Austria e in cambio chiede delle concessioni e questo è il patto di Londra il testo proprio il documento ufficiale che vi faccio un attimo vedere lo leggiamo tutti perché è lungo il periodo del proprio governo il marchese imperiale che è l'ambasciatore di sua maestera in Italia l'onore di comunicare ai vari ambasciatori presenti il seguendo memorandum articolo 1 si dovrà immediatamente concludere una convenzione militare tra gli stati maggiori di Francia e l'Italia e Russia questa convenzione stabilirà il numero minimo di forze militari che dovrebbero essere usate dalla Russia contro l'Austria perché dice l'Italia si cautela di ciò entro in guerra però voi mi garantite io non voglio affrontare tutto l'esercito austriaco contro il membro mi dovete garantire che la Russia si impegni a continuare le operazioni militari contro l'Austria articolo 2 da parte di sua l'Italia si impegna a utilizzare tutte le proprie risorse allo scopo di iniziare la guerra assieme alla Francia alla Gran Bretagna alla Russia contro tutti i loro nemici la fronte francese e quella britannica dovrà fornire assistenza a quelli italiani eccetera ma la cosa più interessante sugli articoli successivi che non vi invito a leggere tutti perché però li ho riportati ed è questo quello che chiede l'Italia secondo il trattato di pace che verrà fatto a guerra vinta l'Italia dovrà ricevere il Trentino il Tirolo Cisalpino con il suo confine geografico naturale Trieste le Conte di Gorizia Gradischio tutta l'Istria tutta la Quarnaria qua vedete è tutto l'elenco tutte le isole della costa jugoslava della futura costa jugoslava della Dalmazia dell'Istria e qua è proprio indicato proprio in maniera molto molto precisa che cosa l'Italia chiede in cambio chiede anche concessioni coloniali negli ex territori che sono territori coloniali dell'impero tedesco e altro questi sono gli articoli in particolare l'articolo 4-5 che indicano come potete leggere molto bene tutto quello che l'Italia vuole e da questa differenza tra il patto di Londra e quello che l'Italia effettivamente otterrà la guerra finita che poi nascerà il tema avvelenato della cosiddetta vittoria mutilata cioè che l'Italia rivendicherà che non ha ottenuto nonostante i patti non gli sono stati concessi i territori che invece da questo accordo avrebbe dovuto ottenere arriviamo quindi al 24 maggio del 15 del 15 per dire la prima pagina del resto del Carlino l'Italia dichiara guerra all'Austria quindi ora diciamo la guerra è completa nel senso tutte le principali potenze sono entrate in campo a eccezione degli Stati Uniti che entreranno in guerra solo nel 17 e qua vedete gli schieramenti contrapposti Germania Austro-Ungheria Bulgaria Impero Ottomano da una parte Italia Francia Inghilterra e Russia Zarista dall'altra l'esercito italiano entra in guerra con 35 divisioni di infanteria 1 di bersaglieri 4 di cavalleria 4 colpi alpini 1 milione e mezzo di uomini 760.000 fucile 618 mitragliatrici il numero notato è che è molto esiguo 1450 canoni da campagna 132 canoni campali 58 aeroplani 5 dirigibili a fine della guerra faremo se facciamo vedere le differenze di quanto verrà invece potenziato l'esercito in seguito dove va a combattere l'Italia questo è una l'ho scelta perché è una carta geografica fatta immediatamente dopo la fine della guerra quindi degli anni 20 e vi fa capire soprattutto per le strade capito le vie di comunicazioni che non erano così numerose come quelle che ci sono adesso e vedete la zona di operazioni per l'esercito italiano è la peggiore possibile perché le pianure noi partiamo dalla pianura questo è il confine più o meno tra Friuli che è italiano e invece la zona più a est che fa parte di Perausto Ungari quindi il confine diciamo la frontiera del tempo di pace e voi vedete che gli italiani devono attaccare da sotto e sono dominati dalle quote soprattutto dalla zona della zona alpina ma anche la zona più a est sul fronte del fiumi Zonzo e se non sono montagne allevatissime come quelle delle Alpi più a nord sono comunque un ostacolo notevole da superare qua vedete un'altra cartina sul fronte italiano del periodo 15-17 i comandanti avversari l'esercito austro-ungarico che l'Austria sta già combattendo dalla fine estate del 14 una guerra contro la Russia con alterne vicende quindi l'Austria è costretta a schierare truppe sul fronte italiano e qua abbiamo i due comandanti il Feldmaresciallo Franz Conrad von Neitzendorf che è il comandante in capo dell'esercito austro-ungarico e che controlla il fronte nord il fronte diciamo trentino a destra dal nome già vedete che non è un austriaco è in realtà lui un croato un serbo croato il generale Borevic che è al comando delle truppe sul fronte del risonzo quindi le truppe che difendono Gorizia e Trieste qua velocemente uniformi un alpino nostro è un soldato austro-ungarico l'elmetto italiano che è una copia di quello francese Adrian inventato da un pittore per quello ha questa crestina così elegante ma poco funzionale noi abbiamo preso l'elmetto francese e abbiamo copiato solo che almeno il nostro era di acciaio quello francese era più leggero era d'alluminio quindi l'alluminio tiene a meno dell'acciaio quello tedesco invece è l'elmetto progettato da un medico e si vede perché a tutt'oggi se voi vedete gli elmetti di qualunque esercito al mondo hanno tutti quell'elmetto lì anche gli estici americani hanno copiato l'elmetto tedesco usato nella prima e nella seconda guerra mondiale perché è quello perché è progettato da un medico che è quello che protegge di più la parte posteriore del collo tutti gli eserciti attuali hanno copie vabbè fatte in Kevlar fatte in materiali plastici non più in acciaio ma guardate la forma la foggia è quella e qua abbiamo una figura già accennata è fondamentale il generalissimo Cadorna capo di stato maggiore dell'esercito ma un capo di stato maggiore dell'esercito che diventerà così importante tanto da essere un interlocutore privilegiato della stampa scavalcherà i ministri cioè nessuno si ricorda i ministri della guerra del periodo 15-18 tutti ci ricordiamo Cadorna perché col suo comando a Udine perché il comando operativo è a Udine quasi gestisce un governo parallelo con quella di Roma si permette di trattare male parlamentari ministri addirittura fa sostituire dei ministri che non sono di suo gradimento concentra su di sé un potere assoluto quasi dittatoriale e a destra ho riprodotto un documento che sono riuscito a ritrovare e mi ha fatto molto piacere di trovarlo perché spiega moltissimo il generale Cadorna rilascia poco prima della scopia della guerra febbraio 1915 questa libretta o libretto rosso chiunque ha fatto il militare sa che di solito usano la declinazione femminile la libretta cioè un manuale di istruzioni in buona sostanza questo è il famoso libretto rosso di Cadorna cioè sono le istruzioni a tutti gli ufficiali su come devono andare in guerra come devono comportarsi in guerra e come potete vedere dal titolo il comportamento l'atteggiamento bellico principale che devono assumere è quello dell'attacco frontale questo è il manuale su come condurre l'attacco frontale ed è il manuale diciamo su cui tutti gli ufficiali si sono formati e sulla base di quel testo di questo manuale per tre anni le truppe italiane sono andate all'assalto in questo modo andiamo a leggere è già stato detto ma qui Giovanni Petro ancora che l'attacco di una posizione può essere esclusivamente frontale vi faccio vedere questo documento per spiegarvi il perché delle carneficine nella prima guerra mondiale ma attenzione non è che Cadorna sia il più diciamo stupido questo manuale è più o meno copiato da altri dei vari contendenti delle varie potenze in guerra che lo applicavano allo stesso modo cioè in questo periodo l'idea l'attacco è un attacco frontale cioè se io devo andare a conquistare una posizione mi comporto così e tutti gli eserciti fanno così questo spiega le enormi carneficine della grande guerra l'attacco in una posizione può essere esclusivamente frontale oppure la combinazione dell'attacco frontale con un altro fianco cioè io concepisco solo si va contro il nemico frontalmente o al massimo gli si fa anche una manovra sul fianco ma è una manovra secondaria perché l'obiettivo principale è frontale poi l'attacco di fianco si effettua mediante convergenza di varie colonne e se l'attacco di fianco l'ultima parte va a urtare contro riserve opportunamente schierate si ricade nel caso dell'attacco frontale cioè quindi ci si gira diventa un attacco frontale dall'altra parte quindi questo è il manuale che ha guidato tutte le azioni italiane fino almeno al caporetto cioè è facile adesso criticarlo sapendo quello che è successo non voglio essere un difensore di Cadorna per carità però ripeto tutti facevano lo stesso modo quello che non questo diciamo è un manuale che nasce vecchio perché si ragiona ancora nei termini delle guerre ottocentesche quindi non con delle armi moderne come i cannoni a tiro rapido le mitragliatrici e altro in grado di rivoluzionare completamente il modo di fare la guerra e rendere completamente inefficaci o diciamo che garantiscono perdite elevatissime queste direttive anche gli altri eserciti come vi dicevo lo hanno adottato ecco un'altra cosa che chiunque abbia fatto il servizio militare e si ricorda qualcosa troverà anacronistiche è questo passo fanteria la quale durante l'avanzata venga a cadere sotto il fuoco aggiustato dell'artiglieria amica quindi fanteria che sta avanzando che si prende delle cannonate addosso deve al più presto sottrarsi all'offesa nel solo modo che è consentito cioè procedere avanti cioè noi chiunque ha fatto un po' di addestramento si ricorda la prima cosa ti tirano là ti butti per terra e ci resti strisci fai il famoso passo del leopardo e tutte le altre ma non ti metti a correre sotto il tiro dell'artiglieria perché voi sapete bene il proiettile esplode a raggera e quindi le schegge ti colpiscono se invece sei straiato per terra le schegge ti passano sopra invece qua prescrive l'esatto contrario ultima parte fermarsi e gittarsi a terra sarebbe errore gravissimo e qui varrebbe a permanere sotto la percorsa del fuoco aumentando per di più la propria vulnerabilità è vero se ti fermi rimani sotto il tiro ma se anche ti alzi e corri visto che le artiglierie come vi dicevo sono a tiro rapido e fanno molto velocemente rispetto al passato possono correggere la direzione di tiro se tu continui a correre l'artiglieria continua a spararti e magari accorci il tiro e ti segue mentre tu ti sposti quindi diciamo questo è un sono regole valide per l'ottocento che però nella prima guerra mondiale non valgono più però tutti gli ufficiali italiani sono formati su queste direttive vedete la parte anche che è proprio sottolineata questa è una coppia che è conservata a Trieste chi ha sottolineato quella parte si vede che era un ufficiale che doveva addestrarci quindi per così dire le teorie e i modi di operazione diciamo le istruzioni di combattimento sono sbagliate e le conseguenze sono quelle che vedremo e che comunque già conoscete però ci tengo anche a sottolineare che questo testo non è solo una serie di istruzioni sbagliate anacronistiche o che non prendono in considerazione le ultimi aggiornamenti della guerra moderna ad esempio c'è questo passo che a mio avviso è molto significativo perché descrive bene anche in maniera quasi psicologica la situazione che si veniva a trovare un combattente della prima guerra mondiale una delle caratteristiche più salienti dell'odierno campo di battaglia è rappresentato dal senso di vuoto che in esso domina poco si vede ma si è colpiti il più delle volte ignorando da quale direzione e distanza il fuoco provenga se ti sparano addosso non capisci da dove chiaramente più o meno dal davanti non dal di dietro però non sai da dove per vincere il naturale sgomento che deriva dall'ignorare d'onde provengano le minacce e le offese per schermirsi cioè nascondersi e colpire alla propria volta non veduti occorre saper vedere non esponendosi alla vista da qui la necessità dell'osservazione questa è una giusta osservazione cioè bisogna riuscire a studiare prima il terreno osservare senza essere visti per capire dove è stato il nemico e quindi sapere da quale punto ti potrà sparare queste sono le scenarie dei campi di battaglia che le truppe italiane si trovano ad affrontare come vi facevo vedere prima dalle mappe noi ci troviamo a salire a conquistare posizioni dominanti che sono occupate dall'esercito austriaco sia nel settore trentino sia nell'altopiano del risonso del carso quindi pietraie terrini brulli scarse possibilità di ripararsi il fatto che ci siano tante pietraie significa anche che se io vedevo provare a scavare a nascondere e fare una trincea è molto più difficile che non trovare una terra molle il fronte francese del periodo 14-18 è un fronte migliore per i soldati francesi e inglesi come qualità del terreno rispetto a quello che i nostri dovranno affrontare per tutti i tre anni di guerra perché è in salita il fronte francese è piatto al massimo qualche colinetta boschi terra e basta qua notate roccia dislivelli notevoli e difficoltà crescenti una trincea italiana l'altro settore del fronte che vi dicevo è quello alpino potete capire chiunque di voi sia stato in montagna nella zona delle Alpi del Trentino o del Bellunese troverà tanti luoghi legati ai combattimenti della prima guerra mondiale non per niente prima che ci si rendesse conto che il fronte quello che ha macinato più vite e che ha causato i maggiori lutti e i maggiori sforzi inefficaci prima che ci si rendesse conto che questo fronte era quello del carso anche nei giornali si parlava della guerra bianca the white war addirittura in inglese e la guerra sulle Alpi l'idea della guerra italo-ostriaco all'inizio ha l'idea della guerra sulle montagne sulle Alpi del Trentino non tanto la guerra sugli altipiani sassosi del carso l'assalto questa è una bellissima foto scattata in in diretta ovviamente un po' sfoccata ma serve per rendervi bene l'idea delle condizioni in cui i soldati italiani si trovavano ad andare all'assalto perché noi dovevamo conquistare noi eravamo obbligati all'offensiva gli austriaci erano sulla difensiva perché loro dovevano tutelarsi dovendo coprire anche l'altro fronte il fronte russo quindi l'esercito austriaco inizialmente è puramente solo sulla difensiva oltre alle difficoltà del terreno c'è anche un ostacolo artificiale spesso insormontabile che è il filo spinato che nasce come invenzione civile per cintare le mandri nel far west a fine dell'ottocento e poi diventa un terribile strumento un ostacolo molto difficile da superare qua vedete una figurazione con questi tagliafili con delle coraste protettive che non sempre erano più così protettive quindi il lavoro di chi doveva andare a aprire i varchi dei reticolati prima che ci fosse l'attacco in massa era il più pericoloso che si potesse immaginare di solito queste operazioni venivano fatte di notte quindi piccoli gruppi di tagliafili entravano nella cosiddetta terra di nessuno quindi la zona tra i due schieramenti tra le due trincee e raggiungevano il più possibile in silenzio le linee dei reticolati nemici e le tagliavano in modo tale che poi la mattina dopo quando ci sarebbe stato l'assalto questi varchi sarebbero stati in qualche modo superati più facilmente stessa cosa le squadre che invece andavano a riparare i fili spinati operavano anche loro di notte ecco questa cartina rappresenta il fronte dell'isonto quindi la linea di confine tra Austria e Italia sul fronte est che è stata varcata vedete qua questo trattino il confine all'italo-austriaco nel 1915 che è questo in tre anni di guerra vedete l'offensiva massima la massima penetrazione italiana è di poche decine di chilometri oltre cioè per tre anni di guerra si è combattuto come anche sul fronte francese per poche in un raggio di pochi chilometri con perdite elevatissime ecco sempre quel territorio che voglio far vedere da questa altra mappa che è tratta da una guida di sentieri che rievocano i punti salienti della grande guerra questo è il fiume Zonzo quindi qua stiamo guardando verso est qua in fondo c'è Trieste Miramare qua c'è Trieste qua siamo a ovest il fiume Zonzo e l'alto piano del Carso se guardate i nomi delle località sono tutti nomi Doberdosa Martino del Carso San Michele del Carso questa è una foto dell'epoca Monte San Michele con i vari punti segnati guardate che paesaggio lunare adesso questa cartina è ingentilita ci sono le vegetazioni ci sono i sentieri ma dovete pensare a soldati che dovevano assaltare queste posizioni in un paesaggio lunare al totale scoperto perché lì ci viene visti a distanza notevole e su queste promontori per tre anni l'ecercito italiano si sacrificherà Cadorna lancerà rigorosamente con attacchi frontali undici offensive dal 1915 al 1917 11 offensive sull'Isonto su quel fronte detto offensive sull'Isonto in realtà l'Isonto è già varcato si va sulle colline del Carso subito dietro e qua vedete tutte le battaglie le 11 offensive dell'Isonto il periodo l'obiettivo i risultati minimi le periti italiane le periti austro-ungariche e questo è il tritacardine della prima guerra mondiale sul fronte italiano questo spiega anche molto spiega anche la sfiducia dei soldati che spiega quindi anche Caporetto quello che succederà dopo tre anni così battaglie per conquistare niente infatti alla fine Cadorna queste offensive sono lanciate anche per logorare semplicemente il nemico la stessa tecnica che poi veniva usata anche sul fronte francese Verdun ad esempio una guerra di logoramento quindi non mi interessa più neanche conquistare qualcosa ma ferire uccidere il maggior numero di nemici cioè che così facendo le mie perdite saranno proporzionalmente superiori visto che chi attacca è sempre svantaggiato rispetto a uno che è in difesa trincerato e protetto e quindi la guerra di logoramento che c'è sul fronte francese c'è anche sul fronte italiano con queste quasi sempre sterili offensive ecco quelle più importanti da ricordare sono la sesta battaglia di Risonzo diciamo l'esercito italiano vi invito a notare che all'inizio parte diciamo alla carica tra il 24 maggio siamo entrati in guerra tra giugno e dicembre del 15 ci sono quattro offensive e risultati inesistenti la prima diciamo risultato tangibile sul terreno è la sesta battaglia di Risonzo dell'agosto del 16 con la conquista del del Sabotino un giovane il colonnello Badoglio si guadagnerà una rapida carriera grazie ad essere stato lui a aver conquistato questa importante montagna e la presa di Gorizia che però costerà tantissimi caduti da parte italiana tanto da far nascere quella famosa canzone di rivolta pacifista o Gorizia tu sei maledetta ulteriori offensive nel 16 all'inizio del 17 la più importante della quale è l'undicesima battaglia l'ultima quella prima di Caporetto che porta alla conquista della Bainsizza che è un importante alto piano però notate anche il crescente numero di periti se voi le sommate superiamo i 500.000 caduti voi sapete che le periti totali italiane sono 650.000 quindi in tre anni di guerra per conquistare niente o quasi periti elevatissime le periti austriache sono inferiori comunque sui 350.000 ma d'altro è chi si difende nella prima guerra mondiale nella prima guerra mondiale chi si difende è quello che ha i vantaggi maggiori anche adesso in tutte le guerre in realtà però in particolare nella prima guerra mondiale la prima guerra mondiale fornirà armi nei difensori che gli attaccanti non avevano gli austriaci fino a questo momento sull'isonzo sono sempre fermi cioè subiscono indietreggiano ricontrattaccano per conquistare le posizioni perdute ma non fanno niente di più nel 1916 il fede maresciallo Conrad che abbiamo visto che comanda il fronte trentino decide di lanciare finalmente dal suo punto di vista una offensiva in grande stile e la chiama strafe expedizione cioè expedizione punitiva punitiva perché per punire gli italiani che avevano tradito l'alleanza e si erano schierati con i nemici dell'impero quindi una grande offensiva sul fronte è proprio la confluenza tra il il trentino e il veneto che però vedete la massima avanzata austriaca maggio-giugno del 16 è questo perazio maggio-luglio del 16 vedete questo è il chilometraggio sono 10 km vedete dalla base di partenza la massima avanzata austriaca è di poche decine di chilometri seguono contrattacchi italiani per riconquistare il territorio perduto in particolare quelli sull'Ortigara nel 17 ci sarà una nuova offensiva italiana sempre sull'Ortigara che darà vita anche la famosa canzone tapum magari di questa ne parliamo una prossima volta perché il tempo è poco e e quindi diciamo qua c'è la prima azione massiccia austro-ungarica sul fronte italiano che ha un successo iniziale però si ferma perché anche gli austriaci quando sono all'offensiva attaccano come gli italiani con tutte le difficoltà che devono affrontare gli attaccanti e hanno pesanti perdite quindi la strafe e la spedizione viene fermata e la situazione torna a una fase di stallo ecco qua una serie di foto dell'altopiano della Bainsizza l'ultima battaglia di cui vi vi parlavo la undicesima battaglia di Risonzo e qua vi fa capire bene il platò l'altopiano vi fa capire bene il territorio com'era dietro la linea delle montagne delle Alpi Giulie Carniche anzi scusa e capite com'è difficile avanzare in un territorio simile pietraie questa è una posizione austriaca in posizione in una postazione sul plateau sull'altopiano della Bainsizza che siamo nel settembre del 17 posizione italiana sulla Bainsizza notate la pietraia questo fa sì che quando esplode un proiettile spezza la roccia che diventa a sua volta proiettile schegge se stesse quindi non solo si viene feriti dalle schegge di un colpo di cannone ma anche dai sassi dalle schegge di pietra che sono spezzate dall'artiglieria stessa rispetto a un terreno molle fangoso capite la differenza cade un proiettile in un terreno molle fangoso il terreno in qualche modo attutisce l'effetto del proiettile cade il terreno su una pietraia e un proiettile su una pietraia l'effetto è moltiplicato qua il dettaglio della battaglia della Bainsizza l'avanzata italiana che è consistente però sempre in limiti molto ridotti qua è Gorizia che vi ho ricordato era già stata presa nel 16 dagli italiani a Gorizia il comandante che prende Gorizia è il generale capello che per questo proprio perché il conquistatore di Gorizia fa una brillante carriera e lo ritroveremo fra poco per sintetizzarvi tre anni di guerra oltre alle immagini che vi ho fatto vedere e anche alle istruzioni al manuale diciamo che abbiamo letto mi piace leggere questa sintetica descrizione tratta dal libro di Negri e Rocha sulla grande guerra su come funzionava com'era un attacco se uno avesse potuto assistere a un attacco della fantasia italiana sul fronte del Carso avrebbe visto questo film questo tragico film l'attacco è preceduto dalla preparazione di artiglieria affidata soprattutto ai pezzi del 75 quindi in piccolo calibro reticolati e trincea austriache subiscono quindi pochi danni alla fantasia italiana va all'attacco in formazioni compatte come la libretta subendo il fuoco nomico di mitragliatrici cannoni e fucileria si arresta dinanzi ai reticolati rifluisce indietro ritorna all'attacco spinta dall'incitamento dei procchi più ufficiali avanti Savoia talora riesce a superare il reticolato e a raggiungere la trincea austriaca dove però deve sostenere i ripetuti contrattacchi nemici perché sono una serie di trincee non vede pensare che superata la prima si è vinto e sono tutte difese in profondità quindi ci sono riserve che intervengono proprio in caso di sfondamento della prima linea altre volte la fantasia italiana si aggrappa al terreno costituendo una linea precaria di mucchietti di pietra e sacchetti di terra sotto i reticolati come base per nuovi attacchi oppure ripiega sulle posizioni di partenza l'azione prosegue fino all'esaurimento delle forze e dei reparti e viene ripresa con nuove truppe e continuata con la rimozione dei comandanti che non mostrano sufficiente durezza perché un altro elemento di cui dobbiamo parlare è la disciplina Cadorna si conquista la fama di generale duro e spietato anche ad OPP come conseguenza non solo perché lancia l'assalto e le sue truppe in un modo diciamo non voglio usare al termine criminale però diciamo in un modo non si preoccupa troppo delle perdite ma come lui tutti gli altri generali di tutti gli eserciti della prima guerra mondiale ma è anche noto per la sua ferredisciplina qua vedete questo passo senza discipline e senza sanzioni si capisce che i soldati posti di fronte alla prospettiva di farsi ammazzare o di tornare a casa e dividersi le terre quindi c'è anche un dia socialisteggiante quindi vogliono fare la rivoluzione preferiscono questa ecco Cadorna è famoso perché vengono eseguite 750 con una morte dopo regolare il processo e 300 fucilazioni sommarie circa ma il dato più importante è sotto Cadorna rimuove durante il suo periodo di comando dal 15 al 17 rimuove 807 ufficiali di cui 217 generali cioè Cadorna era un siluratore come dice silurato dal comando se l'attacco non andava bene se l'ufficiale dimostrava dei dubbi diceva questo è un attacco senza senso che ci porta solo delle perdite è controproducente è inutile silurato questi dati se voi pensate a tutte le sconfitte italiane della seconda guerra mondiale comunque i generali italiani della seconda guerra mondiale non verranno assolutamente trattati così male come quelli sotto Cadorna non ci saranno questi livelli di siluramento o punizione nei confronti dei comandanti che si rifiutano sono tentennanti nei confronti di fronte all'idea di eseguire ciecamente le direttive e cadorniane quindi silura 217 cioè rimuove dal comando 217 generali in totale 807 ufficiali superiori con la motivazione standard diciamo che mancanza di fiducia dell'attacco e quindi impossibilità di diffonderla ai subordinati qualunque ufficiale superiore dotato di senno che magari sollevava qualche dubbio veniva silurato e qua vedete il primo documento la direttiva numero 1 del reggio dell'esercito italiano firmata dal capo di stato maggiore Luigi Cadornio il comando supremo vuole all'inizio proprio della guerra vuole che in ogni contingenza di luoghi di tempo regni sovrane in tutto l'esercito una ferrea disciplina questa è la prima all'entrata in guerra c'è questa direttiva disciplina ferrea e l'esercito sarà sottoposto a questa ferrea disciplina torniamo appunto sui siluramenti cadorniani vi dicevo fare un paragone in totale tutta la guerra 983 ufficiali superiori rimosso 807 da Cadorna 176 da Dias uno può dire certo Cadorna ha comandato per tre anni Dias molto meno però Dias si è trovato sicuramente a rimuovere anche molti ufficiali che erano in qualche modo non più adatti al comando dopo Caporetto quindi ristabiliamo un po' le proporzioni e degli 807 esonerati da Cadorna 217 generali come dicevamo prima 255 colonnele e 335 comandanti di battaglione quindi qualunque ufficiale avesse sollevato qualche obiezione era destinato all'essere rimosso e soprattutto per un ufficiale di carriera questo vuol dire la fine della propria carriera ci sono anche però degli ufficiari che in qualche modo di fronte alle stragi inutili della prima guerra mondiale sollevano obiezioni il caso forse più significativo a mio avviso è quello di questo maggiore dei bersaglieri Giulio II era un maggiore dei bersaglieri che però aveva un pallino il pallino era quello dell'idea dello sviluppo dell'arma aerea quindi lui cerca di entrare anche come nei reparti d'aviazione e durante la guerra è in contatto con l'onorevole Bissolati manda con un parlamentare e manda delle critiche sull'operato di Cadorna a questo parlamentare la cosa viene scoperta due arrestato e si fa un anno di fortezza a finestrelle la famosa fortezza in Piemonte un anno di carcere militare lui in questo periodo e anche già la prima aveva iniziato a pensare a come dovrebbe essere la guerra futura il suo obiettivo è trovare un modo di far finire una guerra una carneficina enorme causata da questi assalti frontali insensati e per superare la guerra di Trincea lui dice c'è bisogno di un'altra arma e di un'arma che sia in grado di portare la guerra sul territorio nemico la guerra sui civili paradossalmente per fermare gli orrori degli assalti della guerra di Trincea bisogna creare un orrore maggiore e quello che lui sostiene in questo libro che l'ha pubblicato nel 21 il dominio dell'aria è due è l'unico pensatore militare italiano dopo Machiavelli che viene studiato in tutte le scuole di guerra del mondo perché lui è il primo teorico insieme ad altri della teoria della supremazia aerea e del bombardamento strategico due è il teorico del bombardamento strategico sugli obiettivi civili cioè per far finire la guerra io ti butto la bomba in casa tua e voi leggete questo questo passo l'arma aerea permette di raggiungere i popoli direttamente all'utilità di battaglia permette cioè di intaccare direttamente la resistenza dei popoli e non dovete pensare che questa azione diretta possa raggiungere una grandiosità tale da aggiungere a spezzare le resistenze stesse anche lasciando intatti i rispettivi eserciti e la rispettiva marina cioè colpendo i civili a casa loro si vince la guerra con gli aerei della prima guerra mondiale era molto difficile pensare di fare una cosa del genere qua lui immagina di bombardare una città col gas è molto spregiudicato e cinico però questi passi scritti durante la prima guerra mondiale immediatamente dopo saranno poi perfettamente applicati nella seconda cioè il teorico del bombardamento strategico è lui ed è un maggiore di bersaglieri italiano e scrive questo perché lui è inorridito dalle carneficine insensate sterili delle trincee della grande guerra per vincere la guerra con l'arma aerea si va nella città del nemico e gli si abbatte la volontà di resistere voi pensate a queste cose 30 anni dopo con la bomba atomica è un tema il bombardamento strategico finalizzato a distruggere diciamo la volontà di resistenza del nemico nasce da qui come reazione all'impasse della della grande guerra qua su Tappu magari parliamo l'altra volta adesso arriviamo siamo in tempo chiedo arriviamo beh dopo magari lo faccio no facciamo vedere subito Tappu ma allora se il presidente ha detto che siamo in tempo io mi adeguo perché sono stato redarguito sui tempi assolutamente ecco il soldato italiano di fronte alle difficoltà non si ribella però magari sfoga la sua frustrazione col canto una delle più celebre canzoni non propagandistiche non patriottiche della grande guerra che tutti penso conoscete è Tappu ho lasciato la mamma mia è scritto da un alpino quindi il dialetto cioè la cadenza è dialetti dell'Italia del nord insomma ho lasciato la mamma mia l'ho lasciata per fare il soldato Tappu 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 il Tappu poi ve lo spiego dopo l'avevo già spiegato una volta a una conferenza ma se qualcuno magari se ne è perso ve lo spiego bene volentieri cosa vuol dire Tappu 20 giorni sull'ortigara mi ricordate strafe expelizione del 16 contro offensiva italiana sempre nel 16 per riconquistare parte dei territori perduti successiva contro offensiva italiana nel 17 sempre sull'ortigara per cercare di sfondare offensiva con esiti nulli e carneficina di alpini perché voi pensate è ancora più difficile che non assaltare le colline del carso pensate le montagne delle alpi trentine quindi 20 giorni sull'ortigara la canzone descrive la vita del soldato al fronte dal basso ho lasciato la mamma mia l'ho lasciata per fare i soldati sono tutti ragazzi ventenni o poco più 20 giorni sull'ortigara la battaglia che abbiamo detto senza il cambio per dismontare cioè in prima linea 20 giorni senza che qualche altro reparto ti dessi il cambio e tu potessi andare a riposarti con la testa pende peoci pidocchi peoci in veneto sono i pidocchi senza arancio da consumare quando portano la pagnotta il cecchino comincia a sparare cioè quando arriva finalmente la corvè che porta in montagna siamo sull'ortigara quindi in cima quindi chiaramente la linea di avvicinamento può essere benissimo vista da chi sta più in alto e vede arrivare il carico non so i muli che portano il cibo e quindi il cecchino cioè chi è il cecchino è il tiratore scelto armato di fucile con mirina cannocchiale che a un chilometro riesce a colpire il bersaglio cecchino da Cecco Beppe l'imperatore diminutivo di Francesco Giuseppe l'imperatore d'Austria da lì il termine cecchino il cecchino è il soldato austriaco armato di fucile con mirina cannocchiale fucile di precisione tiratore scelto che appena tu tieni la testa un po' un attimo fuori dalla trincea ti fulmina e quindi quando portano finalmente da mangiare è in quel momento che il cecchino ti colpisce per metterti ancora più in difficoltà quando poi discende al piano quindi finalmente è arrivato il cambio e puoi tornare giù quando poi discende al piano il battaglione non hai più soldati cioè il battaglione dove sono tutti? sono morti poi la fase più lirica nella valle c'è un cimitero cimitero di noi soldà cimitero di noi soldà forse un giorno ti venga a trovare ovviamente da morto e ritornerò tapum 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 perché tapum? ops siamo andati un attimo in avanti nel tempo no questi sono due aerei moderni due F-18 che superano la baria del suono allora la velocità di propagazione del suono nell'aria è di 343 metri al secondo pari a 1237 km all'ora il famoso boom sonico quando un aereo qua è proprio la foto fatta nel momento del superamento della baria del suono sono aerei militari moderni quindi ricordate il suono viaggia temperatura sui 20 gradi condizioni normali aria normale non troppo male fatta a 343 metri al secondo le mie parole vi stanno raggiungendo alla velocità di 343 metri al secondo i fucili della prima guerra mondiale tutti prendiamo il primo il Mannlicher carcaro ma tutti comunque aveva una velocità a metri al secondo di 620 metri quindi il doppio cioè il proiettile veniva sparato alla velocità di 620 metri al secondo quindi quasi il doppio di quella del suono qua vedete la velocità a metri al secondo dei vari tipi di fucili il nostro il Mannlicher carcaro sui 700 ma vanno tutti tra i 600 e gli 800 quindi i proiettili viaggiano a velocità doppia rispetto a quella del suono che cosa succedeva? che il soldato in prima linea che si riceveva la fucilata sentiva prima il ta del colpo che ad esempio colpiva un sasso vicino a lui ovviamente se lo spigliava il proiettile capiva subito che aveva preso ma il ta del proiettile che colpisce vicino quindi senti il rumore del proiettile arrivato e solo dopo senti il pum dello sparo perché lo sparo viene da un chilometro quello che è e visto che il suolo viaggia a 343 il suono di quello sparo viaggia a 343 metri al secondo il proiettile viaggia al doppio quindi prima tu senti vicinissimo il colpo in arrivo e solo dopo senti il suolo del colpo in partenza quindi è una situazione paradossale che tu senti che ti hanno sparato solo quando il colpo non senti tutti qualunque scena il rumore dello sparo ti fa capire che è stato sparato in questo caso senti l'arrivo del proiettile immediato e solo dopo a distanza di qualche secondo il colpo in partenza come il lampo col tuono quindi questo tapum quindi i fucili austriaci avevano un suono particolare quindi questo che veniva rappresentato questo tapum questo pum particolare questo sparo delle armi austriache e quindi il tapum questo effetto diciamo sonoro particolare da il il nome a una delle più celebri canzoni della grande guerra arriviamo ci siamo arriviamo all'ultima parte dove spero di riuscire a creare un minimo di suspense se no no arriviamo siamo in autunno del 17 cosa sta succedendo a livello mondiale continuano gli attacchi sterili sul fronte francese austriaci tedeschi francesi e inglesi si dissanguano nel nord della Francia e belgio in particolare in Francia l'esercito francese è quasi allo stremo il generale Nivelle lancia nel 17 il comandante in capo l'equivalente di Cadorna francese anche come modus operandi lancia una serie di offensive sullo chemin de dame c'era il cammino delle dame la strada delle dame è una strada che un nobile del settecento aveva fatto lastricare perché le dame che andavano in un castello potessero andarci più agevolmente con le loro carrozze da lì quella strada prende il nome chemin de dame cammino delle dame un nome così diciamo aulico per indicare uno dei teatri di operazione più devastanti della prima guerra mondiale sul fronte francese queste offensive sulla zona detta della chemin de dame hanno esiti simile alle undici offensive del disonzo sul carso e incominciano una serie di ammottinamenti nell'esercito francese i soldati si ribellano non vogliono più tornare alla fronte anche lì la disciplina è molto ferrea gli ammottinamenti nell'esercito francese vengono tenuti all'oscuro ovviamente tutta la stampa è sotto censura militare quindi queste vicende sono poco note però per farvi un'idea se voi guardate il bellissimo film di Kubrick Orizzonti di Gloria narra proprio di queste vicende addirittura il film di Kubrick credo che per lungo tempo fu proibito in Francia il film di Kubrick è del fine degli anni 50 però con Kirk Douglas che fa la parte di un colonnello francese che è un colonnello dal volto umano che anche lui ha dei dubbi su questo modo di fare la guerra e sostiene i soldati vittime di questi soprusi quindi l'esercito francese è in subbuglio anche perché cosa è successo dall'altra parte d'Europa rivoluzione in Russia lo Zara è deposto nel febbraio da una rivoluzione democratica moderata guidata da Kerensky che è un socialdemocratico però la Russia sta traballando le offensive russe si scontrano contro la resistenza tedesca e austriaca soprattutto tedesca e la Russia sta per crollare i tedeschi che lo sanno fanno arrivare Lenin che è esule in in Svizzera prendono Lenin lo usano come un virus caricano Lenin su un treno piombato lo fanno arrivare in Russia attraverso la Finlandia Lenin attraverso questo treno Lenin e i suoi attraverso con questo treno tutta la Germania e tutti i territori contrattati dai tedeschi e fanno arrivare in modo che Lenin arrivi a San Pietroburgo e che da lì possa dar via all'evoluzione bolshevica ciò lo usano come tra virgolette un virus come inoculare un virus il virus rivoluzionario nella Russia che già sta per crollare Lenin in quel momento è in Svizzera esule e non può uscire da nessuna parte se non dalla Germania perché chiaramente l'Italia è alleata dalla Russia e quindi lo bloccherebbe la Francia è alleata dalla Russia e quindi un pericoloso rivoluzionario comunista che predica la fine della guerra verrebbe sicuramente arrestato su indicazione dei servizi segreti russi che lo seguono però uscendo dal lato tedesco i tedeschi ovviamente lo conoscono e lo usano è un'operazione di spionaggio se vogliamo un'operazione di spionaggio perfettamente riuscita non come i matari che tutti pensano una grande spionata diciamo un'operazione di minamento del morale dell'avversario che riesce perfettamente febbraio la prima rivoluzione in Russia nel fino a ottobre dove secondo il calendario Giuliano Gregoriano c'è quella bolcevica quindi la Russia sta crollando quindi forze austriache e tedesche possono essere ritirate da quello scacchiere poi si arrenderà la Russia quando Lenin conquista il potere dicendo pace subito e per quello che riesce a conquistare perché è un popolo allo stremo spossato da tre anni di guerra senza nessuna conquista successo e nessuna possibilità di pensare a una vittoria rapida riesce diciamo in nome della pace subito a conquistare il potere e tira fuori la Russia dalla guerra e liberando quindi tutte le armate austro-tedesche che erano impegnate ancora su quel fronte che si riversa sul fronte italiano e sul fronte francese infatti è la più grande offensiva cioè la cosa che sorprende è che se voi guardate l'inondamento della seconda guerra mondiale nel 43-44 già uno sapeva che Hitler avrebbe perso anche se la guerra finisce solo nel 45 in realtà nella primavera del 18 i tedeschi fanno una gigantesca offensiva sul fronte francese e arrivano quasi a Parigi tornano dove erano arrivate nel 14 la famosa battaglia della Marna la massima penetrazione e siamo nella primavera del 18 quindi dopo 4 anni i tedeschi stanno quasi per arrivare a Parigi di nuovo non è una guerra che il cui andamento era così evidente e segnato come sarà la seconda guerra mondiale dalla seconda parte in poi nella primavera del 18 i tedeschi quasi arrivano a Parigi queste forze liberate vengono utilizzate sul fronte italiano anche perché ho scritto quale conseguenza della Bainsizza perché l'offensiva della Bainsizza fa capire al comando imperiale austriaco che non ce la fa più a resistere quindi un tema che un'ulteriore offensiva italiana avrebbe potuto far precipitare far cronare di fronte e quindi gli italiani sarebbero finalmente riusciti a arrivare a Trieste e allora chiede un aiuto nonostante austriaci e tedeschi si odiassero vicendevolmente soprattutto i tedeschi consideravano gli austriaci bellicamente inefficienti per via anche delle loro scarse performance sul fronte russo dove erano loro ad attaccare e quindi approfittando dell'indebolimento perché non c'è ancora l'evoluzione di ottobre non c'è ancora la pace però il fronte russo è già diciamo allo sbando approfittando della possibilità di ritirare truppe da quel fronte una unità tedesca che vengono mandate in riforzo a puntellare gli austriaci sul fronte italiano che stanno che stanno per per crollare oltre a ulteriori unità austriache che vengono liberate da quel fronte e quindi vengono portate sul fronte italiano e proprio per così dire la vittoria della bainsizza è quella che scatena un po' caporetto la vittoria italiana spaventa molto gli austriaci che si rendono conto d'altone Gorizia è qua qua giù qua c'è Trieste se torniamo alle cartine di prima vedete qua c'è Miramare questo è il Carso siamo quasi arrivati la bainsizza è più a nord questa è la zona questa è l'autopiano della bainsizza quindi la vittoria qua fa sì che qua vedete qua c'è Trieste e allora ulteriori unità di rinforzo vengono mandate sul fronte italiano e prende via quella che è la dodicesima battaglia del risonto che però questa volta sono gli altri che attaccano ho scelto come immagine il monte Matajur che è un monte molto importante nel corso della battaglia qua da questa cartina vedete com'è la situazione del fronte italiano alla vigilia della battaglia guardate questa è la linea del fronte come vedete non ci siamo mossi in tre anni di guerra siamo sempre lì qua è la zona della strafe e spedizione che vi dicevo prima la zona del Trentino a confine col Veneto e le spallate vedete questo pezzo qui è la Bainsizza Plateau è questo pezzo guadagnato nell'ultima offensiva italiana che si è spinta un po' più in là una spallata le 11 spallate di Cadorna ogni offensiva sul caso una spallata però costate centinaia di miliardi di morte allora la cosa tutti pensano Caporetto come mai una battaglia ma gli italiani non sapevano che stavano arrivando questi rinforzi sono stati colti di sorpresa assolutamente no se c'è una battaglia in cui gli italiani devono stare informati su quello che stava per succedere è proprio Caporetto perché vari disertori che provenivano dai vari stati nazionali cechi slovacchi rumeni arolati tra virgolette a forza dell'esercito austro-ungarico passano poco prima della 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 battaglia attraversano le terre di nessuno si consegnano agli italiani e non sono solo soldati sono ufficiali e portano con sé gli ordini che hanno ricevuto e mettono in guardia lo stato maggiore italiano di una possibile offensiva con l'arrivo di una nuova armata che è la 14esima armata guidata dal generale Fumbello tedesco su quel fronte che non attacca però la solita zona del Carso che ben conosciamo ma più a nord sopra la Bonitizia qua nella zona di Caporetto cioè tra Plezzo e Tolmino che sono due località Plezzo qua e Tolmino e qua il perché dell'importanza di un attacco da queste parti spero di riuscire a farvelo vedere con Google Maps che avevo caricato prima ecco questa è una mappa attuale della 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 zona qua vedete Caporetto qua le montagne coperte di neve gli italiani sono e questo qua Tolmino Plezzo questa è l'area della battaglia gli italiani sono arroccati qua sotto quando vedete questa sembra una strada questo qua è il fiume Isonzo poi questo vedete il corso del fiume Isonzo che passa sfiora Caporetto che è qua e vedete bene il terreno come è fatto c'è una valle una conca le montagne ai lati qua ci sono già gli italiani perché gli italiani hanno superato l'isolto quindi sono dall'altra parte ma sono come posso dire proprio aggrappati sul bordo e le linee di difese italiane sono tutte molto portate in avanti perché c'era l'idea offensivista sia di Cadorna sia del comandante di quel particolare settore che è coperto dalla seconda armata guidata dal generale Capello quello che aveva fatto carriera perché aveva preso l'anno prima Gorizia e voi vedete da questa cartina lo schieramento le varie linee rosse che vedete sono le linee di difese italiane ovviamente tutti gli eserciti si schierano la difesa su più linee però nella zona di Caporetta erano pericolosamente molto vicine di solito tra una linea di difesa e l'altra c'è un più terreno per dare anche spazio possibilità a trasferire la battaglia nello spazio obbligando il nemico ad avanzare più avanti e quindi rendendo bersaglio più facilmente delle proprie artiglierie qua le linee di difese italiane sono una dietro l'altra molto proiettate in offensiva il generale Capello che è informato ovviamente del possibile attacco austro-ungarico austro-tedesco su questo settore però pensa di essere in grado di contrastarlo e anzi chiede rinforzi ma perché pensa di lanciare subito una contro-offensiva contro il nemico quindi tutte le sue truppe tutte le sue artiglierie sono schierate lì in previsione in proiezione offensiva ecco torno qua qua vedete di nuovo un'altra cartina voi vedete come riferimento sempre Caporetto che qua ha una confluenza di Zonzo a questa strada Plezzo e Tolmino che sono qui e qua vedete le direttrici dell'offensiva nemica che non va non andrà a conquistare le montagne ma si infila nella valle si infila nella valle e fa una cosa che da istruzioni attacco frontale non si fa e gira e perché vi dice ma come è Caporetto ma è così importante torno nella mappa di prima allora siamo qua Caporetto se io mi infilo di qua sfondo e mi infilo di qua e di qua dove sbuco guardate un po' dove sbuco vengo giù di qua arrivo a Civitale del Friuli arrivo in pianura cosa c'è accanto a Civitale del Friuli c'è Udine non so se riuscite a capire l'importanza cioè io da quassù dalle montagne calo giù se riesco a passare in queste valli inosservato io arrivo a Civitale arrivo a Udine a Udine c'è il comando dell'Escendio Italiano c'è Cadorna è la via più diretta e poi ripeto questa è una foto di Google Maps di adesso quindi vedete tutte le strade gli abitati gli edifici dovete pensare all'epoca che era molto più molto meno diciamo l'inurbamento era ben minore quindi voi però capite che dal Caporetto diceva che fa lì dentro si infila in questa valle un cul de sac un colo di bottiglia no perché dal Caporetto io vengo giù a giro questa grande montagna di Friuli Italiano che è il Monte Matajur che è quello che ho messo prima nell'immagine gli italiani sono qua sopra arroccati io passo di qua passo di qua gli faccio cucù da dietro arrivo a Cividale e da Cividale arrivo a Udine non solo se io sono bravo e veloce faccio una cosa vengo giù di qua e chiudo tutta non solo la seconda armata che è qua tutta l'armata del Carso che è la terza armata comandata dal principe da Osta la prendo alle spalle è la sconfitta totale è il crollo totale del fronte italiano cioè circondo tutto l'esercito italiano passando di qua da dietro quindi Cividale Udine e giù verso il mare perché l'esercito italiano in questo momento è schierato sulla Bancizza e sul Carso quindi qua c'è Gorizia è qua Doberdò San Michele del Carso avete visto ecco l'esercito italiano è qua in questo momento diciamo la parte più a sud il lato destro diciamo dello schieramento italiano è qua sul Carso Gorizia è qua l'abbiamo già presa e Caporetto sta qua sopra Tolmino Caporetto e Plezzo quindi praticamente da un settore di fronte apparentemente secondario però c'è la possibilità di fare un colpo gobbo scendere giù e arrivare subito voi dovete pensare che conquistare il comando principale del nemico significa gettare il massimo caos dello schieramento avversario perché si conquistano il comando quando i sovieti attaccarono l'ottava armata italiana sul fronte russo raggiunsero Kantemirovka che era la sede del comando dell'ottava armata italiana guidata dal generale Gariboldi e crearono il caos assoluto cioè i reparti che ancora erano al fronte non riuscivano a capire cosa fosse successo quindi conquistare il comando significa gettare nel massimo caos qualunque esercito allora gli italiani non sapevano niente ma si sono fatti sorprendere cosa è successo questo è questo è il dibattito il giallo sul caporetto che ancora rimane mi dico nel tempo che ancora rimane dibattuto dopo cent'anni cosa è successo si può parlare di paralisi di come quando uno di fronte ha un pericolo tremendo rimane paralizzato e non reagisce pur avendo tutti gli strumenti per poterlo fare o essere informato su quello che sta per succedere rapidissimamente vi faccio vedere due documenti questo ciclo conferenze si basa sui documenti Cadorna è informato 23 ottobre lettera ufficiale reggio esercito cittadiano comando supremo riservatissimo personale al ministro della guerra per copia anche a suo maesterno oggetto imminente offensiva austro-germanica l'offensiva inizierà il giorno dopo 24 ottobre 17 questo è Cadorna che scrivere le mie provvisioni si avverano l'enemico ormai completato sulla fronte Giulia sul fronte ma all'epoca si diceva la fronte al femminile sul fronte Giulia il concentramento di forze di artiglieria di a me segnalato attacco nomica ci trova preparati armati di uno schieramento di artiglieria adeguato seppur non abbondantissimo e con sufficienza e disponibilità di munizione confido all'intervento dell'eccellenza vostra cioè voi ministro della guerra perché a tale deficienza di munizione venga posto come presenti circostanze esigono un adeguato riparo se avrò come non dubito tale concorso da parte dell'eccellenza vostra lo fermo a fiducia che lo sforzo che ci apprestiamo a compiere sarà vittoriosamente superato quindi dice si sappiamo che ci vogliono attaccare lì sappiamo tutto quando ci sono i tedeschi abbiamo tutto Cadorna dice non c'è problema sulla base di questa comunicazione questo è un documento bellissimo seduta della camera dei deputati atti parlamentari seduta della camera dei deputati del parlamento italiano mercoledì 24 ottobre 1917 il giorno dell'offensiva relazione del ministro della guerra che aveva appena ricevuto il giorno prima la lettera di Cadorna è Gaetano Giardino ministro della guerra dice nella corrente dell'isonzo si è ripescato morto un prussiano cioè un tedesco quindi non un austriaco certo non era solo e vuol dire che lì di tedeschi ce ne sono perché diciamo la notizia che erano arrivati i tedeschi a fianco degli austriaci che i tedeschi erano degli ossi più duri da combattere rispetto agli austriaci si era sparsa in tutto lo schieramento italiano ma è anche sui giornali cioè arrivano i tedeschi ad armare forte agli austriaci dice certo non era solo e quindi abbiamo trovato un morto un soldato prussiano e vuol dire che ce ne sono ora venga pure l'attacco mattina del 24 noi non lo temiamo e gli altri parlamentari qua gli commenti bravo bravissimo vivissime approvazioni i commenti degli parlamentari questo è il ricorso della camera di Gaetano Giardino che è ministro della guerra che rimarrà in carica fino al 30 perché causa Caporetto anche lui salta però in quel momento dice che ci sono anche i tedeschi ce ne frega niente che vengano pure quindi gli italiani erano stra informati dell'offensiva e qua vediamo i protagonisti Cadorna che già conosciamo il generale Cappello per niente militare abbiamo un marziale comunque è lui che comanda la seconda armata è lui che ha preso Gorizia e comanda quello schieramento di forze italiane tra Pless e Tolmino dove Caporetto è esattamente nel mezzo il generale tedesco Von Belov che è quello che attaccherà e qua un giovane generale Badoglio che avrà una responsabilità notevole in questa battaglia qua in questa foto vedete di nuovo la conca qua l'isonzo e qua è Caporetto per farvi capire lo schieramento allora il giorno prima dell'offensiva abbiamo visto qua i documenti ufficiali lettera telegramma e discorso alla camera del ministro però Cadorna ha qualche dubbio e il giorno prima della battaglia si incontra con Capello che è il suo subordinato che controlla quello settore di fronte meno di 24 ore dall'offensiva di Von Belov la seconda armata non aveva c'è da dire una cosa Capello e Cadorna un po' non si sopportavano perché Cadorna voleva dirigere tutto Cadorna era accentratore Capello faceva un po' per conto suo poi avendo conquistato Gorizia e avendo una fama di offensivista era molto ben visto anche diciamo inizialmente anche da Cadorna stesso e poi anche dall'opinione pubblica dalla stampa e quindi c'era massima fiducia su Capello sulle sue capacità ma Cadorna in quei giorni scrive a Capello dicendo attenzione arriva un attacco sposta le tue truppe non lasciarle troppo vicine in proiezione offensiva vai sulla difensiva Capello non lo fa anche in quel momento soffre di nefrite quindi è sempre ricoverato nel momento fatale di Caporetto il comandante in capo del settore italiano della seconda armata è all'ospedale entra e esce dall'ospedale da campo perché soffre di nefrite quindi non controlla bene non dà ordine le sue truppe rimangono schierate soprattutto i cannoni molto avanti questa è l'ultima slide vi tranquillizzo così chiudiamo meno di quattro dopo di Fonbello la seconda armata non aveva neppure ottemperato gli ordini del comando supremo né organizzata la difesa d'oltranza la seconda armata di Capello non aveva organizzato non aveva sgomberato la maggior parte delle fanterie nelle trincee in posizione arretrate non aveva riposizionato indietro i grossi medi calibri né spostato il grosso del ventisettesimo corpo d'armata di Badoglio sulla destra dell'isonza non aveva dato disposizione circa il fuoco di controbatteria cioè il fuoco da far partire con i cannoni appena gli altri cominciano a sparare loro tu che sai già che stanno per sparare rispondi questo si chiama fuoco di controbatteria per bilanciare l'attacco nemico Cadorna scoprì da questa testimonianza scoprì queste sono testimonianze dei presenti quindi non è un documento ufficiale che ci dà la certezza che sia veramente avvenuto così come descritto Cadorna scoprì la verità solo quando fu troppo tardi alle 14 dello stesso 23 ottobre nel corso di una conferenza col comandante della seconda armata generale Capello a Villa Carreria Cividale del Friuli avete visto dove è Cividale del Friuli è all'uscita del valore di Caporetto lì si trovano tutti i protagonisti erano presenti anche Badoglio Bongiovanni Caviglia e Montuori Cordero Cavallero e Gabba Badoglio e Bongiovanni sono due comandanti di corpo d'armata dei tre la seconda armata di Capello è composta da tre corpi d'armata uno è comandato da Badoglio l'altro da Bongiovanni e il terzo da Cavaciocchi che non è indicato Cordero Cavallero Cavallero ce lo ritroveremo nella seconda guerra mondiale sotto gli poca strani di Villa Carreria a Cividale Capello esposa al generalissimo attonito la situazione ma soggiunge allora qua è la casta piemontese dei militari che comanda tutti si parlano in dialetto piemontese perché per fare carriera all'epoca fino a Diaz insomma cioè la casta dei militari piemontesi è quella che governa il reggio esercito quindi Capello non sembra particolarmente preoccupato dell'imminente offensiva e dice l'uma la manovra ci resta la manovra cioè la possibilità di manovrare e le viteriosi divisioni della benshizza in piena efficienza nelle loro disposizioni potranno calare come una saracinesca sulla sinistra dei reparti nemici avanzanti annientati dalle nostre artiglierie e fermati dalle nostre divisioni sull'osiesa e su formi cioè Capello dice anche se l'attacco imminente noi con la manovra abbiamo abbiamo la manovra il generale Cadorna allora verbe gridato e l'osiesa e il colovrat e lo zagrandano e il molte stoll sono tutte quelle posizioni della linea difensiva italiana che abbiamo visto che sono un po' troppo avanti i miei ordini i miei ordini poi c'è questa frase che è riportata di tutti i libri su Caporetto mio padre ha preso Roma e tocca a me di perderla perché Cadorna senior era quello che era entrato il 1870 a breccia di Porta Pia e Cadorna si rende conto che la seconda armata non ha secondo lui obbedito ai suoi ordini non ha fatto niente ma lui stesso che era un accentratore neanche lui ha fatto niente perché avrebbe avuto se avesse dato la giusta attenzione a questa imminente offensiva spronato sarebbe andato lì non il 23 ottobre il giorno prima di Caporetto sarebbe andato lì una settimana prima un mese prima sapendo già da settembre che si sapeva di questo attacco ma lui non lo fa e quindi mio padre ha preso Roma e tocca a me di perderla seguì un profondo silenzio questa è la contata dei testimoni di questo incontro poi Cappello replicò ma abbiamo tutto predisposto per le linee di resistenza ma venne interrotto dal generalissimo cioè da Cadorna infuriato avete alterato i miei ordini ed ora correte ai ripari quando non vi è più tempo perché effettivamente il 23 spostare le truppe non è una cosa immediata e questi spostamenti verranno fatti all'ultimo e aggraveranno il caos della prima linea italiana Cadorna si rivolse quindi a Bodoglio e ponendogli la mano sulla spalla chiese in Piemontese tutti i piemontesi anche a Bodoglio chiel chiel lonca fa chiel cioè lei e lei e cosa fa lei mi avrebbe risposto Badoglio cioè il comandante del 27 corpo mi sono a post uno dei sottoposti di capello mi sono a post l'hai tutto predisposto assun tranquillo io il piemontese non lo so quindi lo leggo a mi manca niente e aggiunse con un sorriso assun manca desmentiamo e predispone a manca desmentiamo mi sono indicato e predispone un camp di concentramento dei prisioni le truppe nemiche che andranno in nostre mani cioè dico io ce l'ho a post non mi manca niente Badoglio un po' mi manca solo di predisporre il campo di prigionia per i nuovi prigionieri che faremo i presenti stando alla testimonianza del conte Sforza si guardarono in faccia sbalorditi Cadorna scrollando il capo si allontanò parlando col colonnello Ugo Cavallero che è del suo stato maggiore il quale aveva il volto stravolto questa è la sera del 23 in realtà poco prima dell'incontro mentre si recava a Carraria cioè a conferire con Cadorna e gli altri Badoglio era crollato ed era stato sentito dire è venuta l'ora del castigo l'uma tutti giugà a musca cieca tutti l'uma da sleda intender gli un coi auti adesso le finia agne più niente neanche allo stellone cioè abbiamo tutti giocato a musca cieca tutti ci siamo andati a intendere gli uni con gli altri e adesso è finita non c'è più niente non c'è neanche lo stellone il famoso stellone italiano che ci tutela ma non ebbe il coraggio di ripeterlo davanti al suo comandante supremo quindi qua vi lascio con un po' di suspense siamo al 23 sera gli italiani sono paralizzati la mattina dopo inizia l'attacco e di questo parleremo al prossimo incontro grazie e buonasera la sospanza sicuramente l'ha creata ci ha creato anche una grande tensione in questo racconto che sembra una telenovela permetti che te lo dica perché no in senso positivo nel senso che tiene tiene proprio l'attenzione nonostante sia molto particolareggiata e anche un po' ostica forse per alcuni di noi quindi grazie mille ci vedremo per la prossima puntata di venerdì prossimo per vedere come va a finire ovviamente grazie e complimenti grazie e complimenti grazie e complimenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti